I just want it Luca Onestini e Ivana Mrazova andranno a Temptation Island? No, la coppia non è interessata Fervono i preparativi per la prima edizione di Temptation Island vi condotta da Simona Ventura Ma, contrariamente a quanto sussurrato negli ultimi mesi, nel cast non ci saranno Luca Onestini e Ivana Mrazova La coppia nata a grande fratello Vignol è interessata a mettere alla prova il loro amore Soprattutto perché non c'è nulla da testare. La storia d'amore tra l'extronista di Uomini e Donne, e la modella cieca procede a gronfie vele A farlo sapere gli stessi Luca e Ivana nel corso di una diretta di coppia su Instagram A spiegare la situazione ci ha pensato Onestini, che ha chiarito che non farà parte della nuova trasmissione prodotta da Maria De Chilippi Luca Onestini. Perché non vado a Temptation Island vi con Ivana, punto non andremo a Temptation Island vi Non abbiamo nulla contro, è un bel programma, però noi non abbiamo niente da mettere alla prova Quando va tutto bene? Quando l'ingranaggio è perfetto? Non bisogna toccare il nulla, ha spiegato Luca Onestini su Instagram Nessun commento, invece, da parte di Ivana Mrazova, che è indubbiamente sulla stessa lunghezza d'onda del fidanzato A Onestini è bastata, dunque l'esperienza da tentatore nell'edizione 2016 del reality show, quando ha provato a far capitolare in vano la napoletana Roberta Mercurio, impegnata con Flavio Zerella Luca Onestini. Luca Onestini. No a Temptation Island, sì a conoscere la famiglia di Ivana, punto quindi Luca e Ivana non andranno a Temptation Island A fine agosto la coppia è attesa a Praga. Mister Italia vuole conoscere tutta la famiglia della Mrazova Quest'ultima ha invece già incontrato i parenti di Luca, e ne è entusiasta. Adoro sua madre, suo padre, suo fratello Gianmarco, tutti quanti, ha assicurato l'ex palletta del festival di Sanremo Prima Ivana e Luca si concederanno una vacanza in Sardegna, per ritemprarsi dalle ultime fatiche lavorative Sardegna, per ritemprarsi dalle ultime.